Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono in macchina, ci sono 46 gradi, vorrei farvi vedere ma non posso Mi sto sciogliendo, devo accendere di costa l'aria condizionata, ma detto questo, chi mi segue su Instagram avrà visto qualche settimana fa quando ero a Disneyland Che a Lego Store, lì a Disneyland, credo in Francia, in Inghilterra, anche in altri paesi, non credo ci fosse in Italia Era stato lanciato per due giorni un progetto dove andavi presso il Lego Store, ti facevano costruire il castello, credo fosse il castello di Cenerentola Con la basetta del centesimo anniversario e potevi portartelo a casa, quindi Lego gratis, bellissimo, magari alla fine del video ve lo farò vedere Ce l'ho a casa, e questo Lego è comunque un'edizione limitata, quindi su internet ha già un buon valore, diciamo che viene venduto anche intorno ai 50 euro E quindi sono contento di averlo preso Ieri ho visto che su Instagram Lego Italia ha sponsorizzato una storia dove dicevano di andare oggi e domani presso il Lego Store in alcune fasce orarie Se non sbaglio oggi dalle 2 alle 4 e domani dalle 10 a mezzogiorno E ci sarà l'occasione di costruire un piccolo set dedicato a Moana o Vaiana o Oceania, ragazzi non so mai qual è il nome da utilizzare Ed è possibile portarlo a casa, tenerlo Quindi ho finito adesso di lavorare, sono l'1 e 10 minuti E quindi adesso vado verso il Lego Store perché alle 2 inizieranno a regalare questi set E vediamo se riusciremo a prenderlo Macchina parcheggiata, andiamo Sono tornato a casa, nel frattempo si è fatto sera Scusate questa luce giallissima, ma è tutto improvvisato Questo è il kit che ci è stato dato, era una bustina con all'interno tutti i pezzi Come vedete questo è il kit C'è Vaiana sulla tavola da surf con il maialino La palma e poi dietro c'è questa sorta di scivolo d'acqua con un delfino Che adesso vi faccio vedere dal vivo Eccoli qui Guardate, questa è Vaiana che è snodabile, quindi non è una minifigure classica È quella snodabile Qui abbiamo il maialino con la palma e questa piantina E poi qui abbiamo invece questa sorta di scivolo Infatti abbiamo qui una scaletta E poi abbiamo questo scivolo d'acqua che si può sollevare E sotto c'è un piccolo delfino Questi set sono molto carini Naturalmente vengono dati con le istruzioni E sono da collezione perché comunque sono degli omaggi e non sono in vendita Quindi conservarli è comunque una cosa buona perché possono acquisire valore nel tempo Ad esempio, come vi dicevo, il castello che mi è stato dato a Disneyland Già viene venduto a 50€ E adesso ve lo faccio vedere Eccolo qui, guardate quanto è carino Ha questa base sotto con scritto 100 Perché era appunto per il centesimo anniversario E poi abbiamo il castello È stato davvero divertente costruirlo Era sempre uno per persona E poi ti veniva dato in omaggio Anche questo ha le sue istruzioni Ha la sua bustina E quindi mi piace questa iniziativa Che è stata lanciata da Lego Di attirare persone dentro gli store E fare questi piccoli omaggi Quindi approvo tantissimo Spero ne facciano altre E man mano ve le condividerò su Instagram E naturalmente vi condividerò anche i vari post Qualora vi interessasse Con tutti i vari appuntamenti Quindi ragazzi Super super carino A questo punto ragazzi Grazie per aver visto questo video improvvisato Fatemi sapere se vi piacciono Questo genere di video Con queste cose Che vanno al di fuori di Harry Potter E ragazzi Naturalmente per queste cose Mi trovate su Instagram Antonio.seria Mi trovate nei commenti Seguitemi mi raccomando Adesso vado a farmi una doccia Perché mi sto sciogliendo Ciao